Bene 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 bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi facciamo una cosa speciale perché andiamo a disegnare quelle che sono delle linee guida nuove completamente rivoluzionarie che andremo ad avere da questo 2022 in poi nell'analisi delle criptovalute del mondo cripto. Questo tipo di video non l'ho fatto ragazzi precedentemente, quindi negli anni scorsi perché il mercato cripto non aveva, secondo me, delle basi per essere analizzato in queste terminologie. Attraverso l'utilizzo di analisi, soprattutto di analisi di natura fondamentale, perché semplicemente era troppo giovane, mancavano dei dati, mancavano dei parametri. Dal 2022 in poi, avendo passato un 2021 che è stato invece consistente da questo punto di vista, secondo me possiamo iniziare ad inserire anche nelle analisi del mercato delle criptovalute qualche dato in più, qualche dato di vera analisi fondamentale, non solo la on-chain ma l'analisi di natura micro. Introduciamo quindi per la prima volta un video che parla di che cos'è il value investing e il growth investing anche nel settore delle criptovalute. Soltanto pochi anni fa fare un video del genere e dirvi queste cose sarebbe stata veramente una follia, ragazzi. E invece ci siamo arrivati a distanza di pochi anni dalla nascita, dal boom, non dalla nascita, del settore delle criptovalute e siamo anche arrivati adesso a poter iniziare a ragionare in termini di strategie di investimento che da sempre sono utilizzate nei mercati old, che sono centinaia di anni che vengono utilizzate. Adesso ci sono anche possibilità sul mercato criptovalute di iniziare a ragionare in termini di value e growth investing. Allora, questo tipo di considerazioni le utilizzeremo anche per dettare quelle che sono delle linee guida generali per i mercati nel 2022 e andare a capire questo mercato nel 2022, questo bear market c'è, non c'è, ci sarà, non ci sarà una bulla, una fase di ripresa, eccetera. Che cosa cambia poi in termini di strategie? Come va a modificare quelle che sono le nostre scelte, le scelte di un investitore, di un traders che deve stare sul mercato poi attuando appunto i suoi acquisti, quindi modificando le sue strategie di investimento e indirizzando il capitale dove meglio è, cioè dove è più produttivo e meno rischioso. Ho preparato una serie di slide, vi già anticipo che uscirà tra pochissimo, non so già se nel prossimo video, un corso di analisi fondamentale con approccio micro, quindi non on-chain, dedicato al mondo cripto, l'ho già registrato, lo stanno montando, ragazzi sarà un super corso free su YouTube, perciò ovviamente iscrivetevi al canale, se non volete perdere questa nuova fase di questo, in questo momento ragazzi e non volete perdervi queste super informazioni, ovviamente lasciatemi un mi piace per questi video che mi costano veramente tantissimo lavoro, però sono felicissimo di farli perché mi danno l'idea che ci stiamo muovendo veramente, cambiando tanto in questo mondo e pochi pochi anni fa era veramente una cosa impensabile, quindi sono veramente contento per questo. analizziamo che cos'è il value investing, growth investing, quindi giusto una carrellata generale, molti di voi magari lo conoscono già, ma chi si avvicina da poco al settore investing non conosce queste differenze, ma soprattutto lo approcciamo al mercato cripto e vediamo di definire appunto che cos'è un growth investing per le cripto e value investing per le cripto, poi andiamo a capire che cosa può succedere nel 2022 su quest'ambito perché è fondamentale, è qualche strategia operativa, quali sono i parametri da andare a vedere ragazzi. Va bene, allora ho dietro qui le slide, quindi ho preparato le slide, quindi state incollati alle sedie, sedetevi, dove è il mio bitcoin? Ho perso il bitcoin d'oro di nuovo, no, non è possibile, dove lo voglio? Eccolo ragazzi, trovato di nuovo, questo mi accompagna se non c'è, insieme a Batman non si possono fare questi tipi di video. Allora, value verso growth investing ragazzi, andiamo a ragionare a livello teorico. Allora, growth investing, approccio growth, che cosa significa? L'approccio growth degli investitori è un approccio che mira a cercare, a ricercare società giovani, quindi aziende, asset giovani, azioni in borsa per intenderci ragazzi, ok? Società rappresentate alle azioni in borsa, giovani ad alta crescita, spesso però con un prezzo per azione estremamente costoso, quindi azioni quasi sempre che hanno un valore di quotazione più alto rispetto a quello che è il suo, il vero loro valore intrinseco, che però hanno una piccola capitalizzazione e che spesso possono avere altissimo potenziale di sviluppo, per esempio le biotecnologie nel settore classico ragazzi, oppure pochi anni fa, ad esempio azioni come Paypal, Apple oppure Amazon, erano tutte azioni di natura growth, cioè investimenti che avevano, aziende che non pagavano dividendi sostanziosi, non avevano un valore già, che producevano un valore già importante, ma crescevano però nel tempo in maniera consistente, quindi questa è la natura dell'approccio growth, quindi la tipologia di investitore che approccia ha questo tipo di investimento, va a cercare quel tipo di aziende, di asset. Nel settore cripto come possiamo reversare questa forma di approccio e farlo diciamo adattare a questo tipo di settore? Allora intanto cosa significa? Ricercare progetti giovani, quindi non saranno più asset intesi come aziende, ma poi alla fine è la stessa cosa ragazzi, i protocolli cripto sono, li stiamo creando, li stiamo pensando ormai più come aziende, come vere community, aziende decentralizzate. Allora ricercare progetti giovani ad alta crescita con piccola capitalizzazione iniziale, ma alto potenziale di crescita esplosiva. Moltissimi di voi conoscono già questo approccio perché il naturale approccio growth delle criptovalute finora è stato sempre quello di andare ad analizzare i white paper dei progetti, verificare la tokenomics dei progetti e dire a questo progetto che ha un'alta potenzialità esplosiva e ci entro dentro e poi analizzare ad esempio quello che sul grafico avveniva con le community, come si muovevano sotto i famosi pump and dump costruiti nel settore delle criptovalute. Facciamo alcuni esempi di approccio growth nell'ambito del cripto. Esempi del 2021 sono palesissimi ragazzi perché il 2021 è stato un anno di boom di questo tipo di investing nel settore di criptovalute con il gaming che è esploso praticamente alle stelle, le NFT, i metaversi, i meme addirittura ragazzi i meme sono un esempio palese di quello che è il growth investing, proprio quello veramente nudo e crudo, quello che addirittura dietro non ha nessun valore, quindi proprio il value viene totalmente annullato, quindi pensate un po', solo penso nel settore cripto esiste questa cosa e poi abbiamo la DeFi in alcune situazioni, non tutte la DeFi ma soprattutto le DeFi quelli iniziali, quegli progetti che si sono appena lanciati. Tutti questi settori del mondo cripto nel 2021 sono esplosi, quindi investire con un approccio grosso su questi settori era positivo assolutamente. Quali sono i pro e contro di questo tipo di strategie di investimento? Molto semplice, allora i pro sono alto potenziale di guadagno gigantesco. Nel settore del criptovalute abbiamo visto addirittura nel settore meme avere questo potenziale in maniera enorme, cioè addirittura proprio 12, 13, 15 mila per cento nell'arco di pochissimi mesi, solo le cripto riescono a creare cose del genere perché sono progetti veramente poi esplosivi quando si vanno a verificare perché si innescano dei sistemi di pump estremamente importanti, quindi molto emotivi. Ma dall'altra parte ragazzi ci sono anche dei rischi elevatissimi nel growth investing e nel settore delle criptovalute che è il rischio del crash, la volatilità elevatissima, per esempio alcune delle criptovalute che mentre facevano l'ora scalata verso prezzi elevatissimi, verso i massimi storici, a volte anche hanno passato delle singole giornate dove andavano a perdere addirittura il 50-60% in due giorni per poi ritornare magari a salire su nuovi ATH, follie, no? Quindi allora il growth investing affascinante sicuramente sembra un po' l'approccio dal casino su questo tipo di token e non tutti i token delle cripto nel settore growth sono così perché per esempio alcune della DeFi non rispecchiano queste follie, diciamo tra virgolette ragazzi, perché poi il mercato va sempre ragionato, che è follie che abbiamo visto per esempio nei metaversi oppure nel settore dei meme soprattutto, quindi i metaversi diciamo dopo la questione Facebook. Però una cosa che è molto comune è la volatilità, la volatilità quasi tutti ce l'hanno, quindi il settore growth ha ampio potenziale di crescita ma anche una volatilità abbastanza elevata. Passiamo all'altro capo del filo, quindi la contrapposizione che poi in realtà non sono neanche così tanto contrapposti perché in realtà dovremmo dire che qualcosa che è growth prima o poi si trasformerà in value. Solitamente è così ragazzi, però diciamo bypassiamo questo ambito di approfondimento, ragioniamo un po' più semplici. Allora l'approccio value investing. L'approccio value è molto semplice, ricerca società sottovalutate dal mercato, spesso con prezzo per azione basso rispetto ai parametri di analisi fondamentale. Un value investing standard è comprare asset ad un valore inferiore rispetto al loro valore naturale. Questo concetto in termini di mercato si definisce asimmetria di prezzo sul mercato, in pratica ragazzi per un motivo o per l'altro il mercato ancora non ha ben prezzato quel tipo di strumento. Il value investing è molto complesso perché trovare oggi delle aziende sottovalutate rispetto al loro valore di mercato è decisamente difficile perché la circolazione delle informazioni nel 2022 è molto elevata. Questo riduce la cosiddetta asimmetria di prezzo, cioè quasi tutti conoscono le informazioni, perciò se ci fosse un'azienda sottovalutata sarebbe istantaneamente già prezzata al suo prezzo giusto perché le informazioni vanno molto veloci. Quindi dove risiede adesso questo tipo di strategia di analisi? Nel trovare quelli che sono gli asset un po' nascosti che magari il mercato ha perso per via del rumore, della confusione, del tanto materiale che c'è all'interno del mercato e si è dimenticato di queste aziende. Quindi questo è il discorso. Magari invece stanno performando bene, hanno dei piani di sviluppo molto buoni e possono diciamo fare grandi grandi rialzi poi più in là. Allora l'approccio value nel settore cripto invece è strafigo perché l'approccio value nel settore cripto è un qualcosa che esiste praticamente ragazzi solo, secondo me, dal 2022. Quindi me ne parlo oggi per la prima volta e nel videocorso che ho preparato, nel corso che parlerà solo di analisi fondamentali cripto, vi spiego anche tutto il perché di questa scelta. Allora ricercare approccio value nelle cripto, ricercare progetti sottovalutati dal mercato che hanno già una storicità ed hanno essaurito i loro programmi, ad esempio di marketing sullo sviluppo del protocollo. Sappiamo quanto influiscono i programmi di sviluppo di un protocollo sulla boom del prezzo, per esempio di un token, come quando viene lanciato per esempio un token che poi serve per fare il famoso farm and dump nella DeFi. Quindi quando un protocollo viene lanciato nella sua parte iniziale ha sempre questo boom, perciò non può essere un value. Quindi diventerebbe analizzato da un punto di vista value solo quando ha finito tutti questi programmi di marketing eccessivi, diciamo spropositati, volti a creare il famoso pump. Value investing nelle cripto, comprare cripto che già producono revenue e su questo diciamo ho dovuto fare uno spoilerone su quello che vedrete nel video corso, revenue di protocollo con elevato capitale, quindi una total value locked per esempio estremamente importante nel settore DeFi e ottime infrastrutture informatiche perché poi i protocolli cripto ragazzi si basano sulle infrastrutture informatiche che il mercato ha momentaneamente sottovalutato per inseguire la cripto del momento. Secondo me è proprio questa ultima frase, la chicca in più quando andiamo ad analizzare delle cripto e le vogliamo considerare da un punto di vista value. Essendo il mercato cripto fortemente influenzato dalla fase emotiva, dalla nascita di nuovi progetti, dallo sviluppo di quelle che sono le nuove tecnologie, nuove illusioni ottiche, chiamiamole così, che poi a volte sono sicuramente il futuro, a volte invece sono solo mere chimere. E quindi quando il mercato è influenzato più facilmente si va a verificare dal concetto di asimmetria di prezzo, cioè si ci dimentica che poi esistono magari dei progetti estremamente validi che sono già utilizzati, che hanno già revenue, che sono già altamente capitalizzati, che hanno delle infrastrutture importanti e funzionali e che quindi non hanno bisogno di niente, non hanno concorrenti per nessuno e probabilmente restano un leader nel mercato. Allora questa è la value investing dell'e-crypto, almeno secondo me ragazzi, questa è una teoria. Poi ovviamente scrivetemi nei commenti il vostro pensiero perché stiamo facendo un video estremamente innovativo, quindi stiamo andando a considerare queste cose per la prima volta sul canale, probabilmente che ricordo io diciamo in Italia non abbiamo fatto cose del genere su questo momento, poi magari mi dipentico qualcuno, però ragazzi andatevi a scrivere, andate a scrivere nei commenti anche qual è il vostro pensiero perché è fondamentale confrontarci anche su queste cose. Andiamo avanti, approccio value crypto esempi nel 2021, secondo me nessuno ragazzi. Lo so che molti di voi non saranno d'accordo su questa affermazione, ma se dovessi inserire solo un esempio di value investing nel settore crypto nel 2021, per me è l'unico che è accettabile in questo momento è Ethereum, Ether. Non esistono secondo me nel 2021 progetti crypto che rientrano nel settore value investing tranne Ether, Ethereum, perché è l'unico che aveva dati sufficienti, l'unico che aveva una blockchain sufficiente per poter giustificare in termini di value e non di growth, l'incremento che ha avuto nel prezzo nel 2021. Quindi escludendo secondo me ETH, le altre avevano una scarsità di dati che non ci consentivano di fare un'analisi di value investing. Mentre nel 2022 questi dati finalmente arrivano, perché arrivano proprio dal 2021, dove la DeFi è diventata più corposa dopo un anno e mezzo di sviluppo e di primi errori, di bug e di tutto quello che ne è venuto fuori. Quindi nel 2021 per la prima volta il mondo crypto va a strutturarsi una serie di dati che permettono di fare questo tipo di analisi sul mercato. Allora, fatta questa considerazione, fatta questa differenza tra l'investing di natura value e growth, adesso andiamo a capire che cosa significa e perché lo abbiamo fatto ragazzi. Le strategie value e growth nel corso della storia degli anni, nei mercati classici, quindi nell'old market, si sono sempre andate ad incrociare tra momenti di espansione del mercato, cioè quando il mercato cresce, fa tanto PIL per intenderci, prodotto interno all'ordo, c'è tanta ricchezza che viene prodotta, le aziende growth macinano soldi a palate ragazzi e soprattutto sono aziende che crescono molto di più perché c'è innovazione, c'è voglia di fare, c'è movimento e quindi nei momenti di espansione economica quasi sempre il growth vince. Nei momenti invece di recessione o di consolidamento, cioè di ritorno a quelle che sono i valori fondamentali di un mercato, quindi la cosiddetta fine dell'euforia irrazionale del mercato, solitamente le aziende value sono più consistenti, cioè sono più protettive, riescono a perdere di meno magari o addirittura non perdono, alcune volte guadagnano, c'è un effetto rotativo dei capitali da parte degli istituzionali che vanno a spostare i capitali dalle aziende growth alle aziende value durante i momenti per esempio di crisi o in attesa magari di qualcosa che potrebbe anche andare storto. Quindi questo è il classico grafico del ciclo value growth, quella che vedete in questo caso sopra abbiamo le aziende growth, quindi quando il mercato va a dire vado verso il growth, ovviamente non è crypto ragazzi, questo nel mercato è prestato al mercato hold perché sulle crypto non abbiamo dati sufficienti e invece giù siamo nel settore value. Vedete come la struttura è palesemente ciclica di questo tipo di andamento e soprattutto nei periodi di grande crisi, vedete la fine della bolla di internet per esempio, questa è la bolla di internet tutto growth, poi la fine della bolla di internet la grande recessione americana fino alla 2010 circa, poi c'è questa a parte growth addirittura anche nei primi del 2009 quando è ripreso il mercato dopo il crash Lehman e tutto il resto, dopodiché da questi anni in poi, poi dal 2015 insomma la strategia growth stravigge sul mercato, questo anche per via del problema legato alle emissioni di liquidità importanti della banca centrale a questa nuova politica di quantitative easing fatto dalle federal reserve eccetera, quindi che ha influenzato di gran lunga le aziende in fase di crescita e meno quelle che erano value. Ora la questione di questo ciclo probabilmente la andremo a inserire nel contesto delle cripto anche nel 2022 e nei prossimi anni. Esiste un modo, abbiamo un modo di fare entrare questi concetti nel settore cripto, se dovessero entrarci ci entreranno proprio nel 2022 ragazzi ed è a questo secondo me che dobbiamo prepararci nei prossimi settimane, quindi questo un po' tutti dobbiamo sguicciare la nostra mentalità da un approccio un po' più pioneristico a quello che invece è un approccio più istituzionale più classico di analisi del mercato perché adesso il mercato cripto non è quello del 2017 fatto del nulla ma ci sono delle consistenti e importanti forme anche di revenue da analizzare perciò è possibile che il ciclo value growth si venga a verificare. Cosa significa ragazzi? Questo qui. Allora mercato abbastanza maturo per iniziare ad essere analizzato in questi termini. Nel 2022 è una scommessa e la mia scommessa ragazzi è quella che sto pensando da un po' di tempo per questo da una decina di giorni che cerco di pensare a questo video e a come spiegarvi questa cosa. Quindi nel 2022 ho questa idea strategia operativa meglio le cripto growth o value nel 2022. Adesso andiamo a entrare nel vivo. Quali sono le cripto che nel 2022 potrebbero aiutarci di più magari a proteggere il nostro capitale oppure a crescere se continua una fase di bolla? Quale scegliamo? Le value o le growth ragazzi? Allora dopo quello che abbiamo visto teoricamente tra il 2020 e il 2022 essendo in una fase che ci porta alla cosiddetta conclusione del ciclo dell'albing teoricamente dovremmo essere nella fase bearish che chiude a fine anno in teoria questo sarebbe un anno di consolidamento o mercato orso a meno che alcune diciamo strutture non rientrano proprio ad incastrarsi in maniera profonda e vanno a creare un outliers statistico cioè un anno diverso rispetto ai precedenti un anno diverso che può creare una nuova bull run è questo insomma ne stiamo parlando veramente da tanto. Qual è quindi la strategia operativa da andare ad applicare e dopo andare ad applicare questi concetti? In 2022 saremo in un bear market o in un consolidamento? Allora in questo caso sarebbe preferibile avere il portafoglio solo crypto value quando noi diciamo solo crypto value lo abbiamo un po' implicitamente sempre detto quando nei nostri video quasi tutti ragazzi abbiamo detto sempre mi raccomando nel portafoglio meno altcoin più bitcoin ed eth percentuali di bitcoin 80% 10% eth e 10% altcoin questo modo di ragionare è un modo da value investor ragazzi non da growth investor perché il growth investor farebbe 80% crypto valute e 20% bitcoin eth quindi quando siamo stati finora insomma abbiamo sempre ragionato in versione value però questa cosa non è proprio del tutto corretta perché dovremmo un po' squicciare tra value e growth in base appunto a quello che è la macro struttura del mercato cioè se ci aspettiamo una fase bearish e di consolidamento per esempio pensiamo che nel 2022 moltissimi di questi progetti gaming, nft, meme token, alcuni progetti da DeFi abbiano già dato e quindi possano ritornare a valori più normali perché magari poi sottostante hanno bisogno di tempo per sviluppare la tecnologia molti magari falliscono, molti non andranno allora diventiamo value investor allora tutto su quelle che sono le crypto value adesso cercheremo anche di fare un briefing su questo mentre se noi pensiamo si va di nuovo in burrana bitcoin prova a spingere che succede? succede che quel settore continuerà a dare grandi risultati magari escono i nuovi progetti gaming, i nuovi progetti metaversi, i nuovi progetti meme ed esplodono e fanno il 12 mila per cento allora non starci sopra poi ovviamente non è da grande investitore diciamo così però ragazzi questa è la strategia cioè intanto dividere e scegliere che tipo di anno ci aspettiamo quindi basiamo la nostra previsione praticamente sull'attesa della euforia bull market oppure bear market consolidamento se siamo in parte di mercato orso e consolidamento dobbiamo andare sulle value una delle migliori value secondo me del mercato crypto sono le stable coin vabbè scherzi a parte ragazzi ok e se invece nel 2022 ci aspettiamo ancora euforia o bull market oppure bitcoin da segnali di inversione comincia a tirare verso l'alto allora growth ancora una volta growth quali principali indicatori possiamo andare a vedere per capire se siamo e anche su questo ragazzi io ovviamente faccio previsioni o delle idee la mia idea generale è che il 2022 sarà un anno di consolidamento questo è quello che io vi dico cioè non un anno bearish come i precedenti ma un anno di consolidamento del mercato e che quindi le aziende value potrebbero essere molto più le aziende ho detto io le crypto value potrebbero essere molto più importanti da detenere in portafoglio ma non solo BTC ed ETH perché adesso ci sono anche altre crypto finalmente dopo il 2021 che possono essere prese in considerazione per essere messe in hold a prescindere anche in momenti di mercato orso però al di là di quelle che sono le mie idee generali io una cosa la faccio seguo sempre il trend anche in questo quindi se alcuni indicatori mi indicano che l'anno 2022 sarà un nuovo bull io vado dietro come una pecora in questo caso e via con l'iscio allora vado a guardare quelli che sono degli indicatori che mi possono indirizzare e dire siamo ancora in bull market quindi ancora euforia vai di growth ancora diciamo non c'è più euforia siamo andando nel bear vai di value proteggi, proteggi, proteggi questi indicatori sono questi qui e sono molto semplici ragazzi andare a guardare il grafico intanto di bitcoin che è un indice per noi cioè praticamente come il nasdaq come l'S&P 500 per il mercato hold se bitcoin sale gli altri seguono se bitcoin scende più o meno gli altri seguono anche se abbiamo visto un po' di decorrelazione negli ultimi mesi ma è troppo presto per dire che il mercato è decorrelato da bitcoin poi settore dei pain nell'insieme e poi dei grafici di natura settoriale per esempio andare a vedere alcune di quelle che sono le crypto più importanti anche il settore gaming o NFT che in generale potrebbero indicarci se stiamo avvicinandoci alla fine di questo momento di euforia quindi bitcoin total market cap della DeFi evoluzione dei singoli settori ma avete fatto caso che infatti nei miei precedenti workspace di trading ho aggiunto immediatamente la total market cap della DeFi proprio come un indicatore e non più da guardare per semplici investimenti ma di natura macro ragazzi va bene allora voi siete più growth o value per quanto riguarda il mercato crypto nel 2022 abbiamo dettato un paletto abbiamo messo un nuovo paletto a tutto quello che potrebbe essere l'analisi nel settore crypto da qui in poi nei prossimi anni ragazzi che cosa ne pensate di questo approccio positivo o negativo questo è un approccio professionale da analista vero? quindi non chiacchiere come si suol dire ma dati un po' alla mano quindi più scientifico sarà un po' più complesso per alcuni di voi immaginarlo rivedete il video più e più volte condividetelo come sempre così date una mano alla divulgazione di queste informazioni e andiamo a ragionare insieme saremo growth o value come sempre secondo me lo decide il mercato ma io mi preparo al consolidamento ciao a tutti ragazzi al prossimo video ciao a tutti